Alla luce dei nuovi focolai di Covid-19 collegati a persone rientrate in Toscana dall'estero, il presidente della regione Enrico Rosse ha firmato una nuova ordinanza in base alla quale, da sabato 18 luglio, le aziende sanitarie toscane dovranno allestire presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze stazioni di accoglienza per i viaggiatori in arrivo da paesi extra Schengen e che quindi sono tenuti a rispettare 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza da parte delle autorità sanitarie. Presso i punti di accoglienza gli addetti delle ASL registreranno tutti i dati dei viaggiatori offrendo loro la possibilità di sottoporsi ai test sierologici e ai test molecolari per la diagnosi del contagio da Covid-19. Coloro che risulteranno positivi potranno trascorrere l'isolamento presso gli alberghi sanitari. La stessa opportunità sarà offerta anche alle persone che hanno avuto eventuali contatti stretti con i contagiati. La nuova ordinanza del Presidente Rossi resterà valida fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia.